La Regione Veneto fa i conti confrontando i materiali sanitari ricevuti dalla protezione civile con quelli dichiarati nel sito salute.gov.it, ma i conti non tornano. Secondo l'assessore regionale della protezione civile Giampaolo Bottacin, partendo soprattutto dalle mascherine, ne sono arrivate 2 milioni e 170 mila. Per giungere i 4 milioni e i 770 mila pezzi dichiarati nel sito, ne mancano 2 milioni e 600 mila. A non essere pervenute sono state soprattutto le mascherine chirurgiche e le FFP2, in totale la discrepanza di 341 mila prodotti tra monitor, occhiali protettivi, tamponi e camici. In una lettera inviata dalla Regione Veneto al commissario Domenico Arcuri si sottolinea la presenza di discrepanze in merito ai quantitativi di materiali ricevuti rispetto a quanto riportato nel sito salute.gov.it.